Amici 17, Carlo Di Francesco confermato, il cast completo del talent show Amici 17 è pronto a decollare, confermato tra i professori Carlo Di Francesco, il cast è ora completo. Carlo Di Francesco è stato confermato tra i prof di canto di Amici. A dare la notizia in anteprima è il sempre informato sito tv.blog. Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi dovrebbe così aver completato definitivamente il cast dei collaboratori del programma. Tutti i tasselli, salvo nuove sorprese, sarebbero così incastrati e pronti a far decollare la trasmissione che dopo aver scaldato i motori su Real Time con i casting orchestrati da Stefano De Marino e Marcello Sacchetta dovrebbe planare nel sabato pomeriggio sulla rete Ammiraglia Mediaset il 18 novembre. Andiamo ora a far ordine sulle figure che sono rimaste e quelle che si sono aggregate al programma. Amici 17, Carlo Di Francesco è il quarto prof di canto, ecco il cast completo del talent show. Carlo Di Francesco è stato confermato tra le figure di Amici 17. Il compagno di Fiorella Mannoia è perciò il quarto e ultimo prof di canto confermato nel talent show. Il musicista e produttore va ad aggiungersi a Paola Turci, Giussi Ferreri e Rudy Zerbi. Spostandoci nella sezione danza troviamo invece Garrison, Alessandra Celentano, Bilgo Hodson e Veronica Peparini. Corpo docente quindi al completo. Nel cast di questanno è stato deciso di inserire una nuova figura professionale, quella del preparatore. Ecco i nomi scelti per questo ruolo inedito nel programma, Annalisa Scarrone, Michele Bravi e Giovanni Caccamo. Andiamo a scoprire a quali compiti saranno destinate le tre personalità. I preparatori ovvero i life coach, la novità di Amici 17. I preparatori che ruolo avranno all'interno del programma? Questa figura avrà il compito di dare una mano ai ragazzi a realizzare quello che i professori chiederanno puntata dopo puntata. A quanto pare con l'ingresso dei preparatori cambieranno anche le mansioni degli insegnanti che non seguiranno più passo per passo gli aspiranti cantanti ma valuteranno quasi esclusivamente le loro performance artistiche. Dunque, in definitiva, i preparatori fungeranno in veste di life coach per supportare e consigliare i giovani, sostenendoli e agendo da motivatori durante il duro percorso che i ragazzi affronteranno all'interno del talent show. Sous-titrage Société Radio-Canada